amici di formula italian team ben ritrovati buonasera dopo questo stacchetto un po frizzantino l'abbiamo chiusa molto bene la pandora race quindi ci ritroviamo non per la formula 1 ma per rocket league ormai secondo anno di appuntamenti con questo titolo di psionics quindi un titolo che diciamo ha fatto passare le nottate ad alcuni ad alcuni di noi quindi perché no fare chiudere l'anno in allegria con un bel torneo di rocket league vi presento chi c'è con me ovvero il buon marco luconi mark 17 buonasera ribonasera anche al buon ernesto coppola magnifico rettore buonasera buonasera dottore ingegnere avvocato e buonasera anche al buon bendy il regista dietro le quinte buonasera a tutti e anche alla fine al combare di arrostecione ovvero compare di arrosticini il buon luca flaminio se ci sente ciao luca sento tutto buonasera 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 prima ci si chiedeva a dove era la salsiccia adesso stiamo parlando di arrosticini ma dopo questo escursus gastronomico signor luconi ci spieghi un po come il sorteggio e vediamo un po quali saranno i gironi allora a schermo potete già vedere le squadre che sono state scelte come test di serie e abbiamo già inserito due team il pacso team nel girone a e gli air force gatt one nel girone b adesso semplicemente andremo a sorteggiare le altre due squadre test di serie ovvero tappa mi levante cyber spank sorteggeremo una di queste due squadre e le andremo a inserire rispettivamente chiaramente nel girone punto che uscirà dal sorteggio e appunto è l'altra nel rispettivo girone una volta fatto questo primo sorteggio passeremo a sorteggiare tutti gli altri team rimanenti senza diciamo particolari restrizioni tra girone a e girone b molto semplicemente come appunto vedete dalla dalla schermata in live inoltre abbiamo anche indicato quali saranno gli abbinamenti per i quarti di finale trovate trovate tutto sotto scritto quindi anche quello lo potete tranquillamente leggere direi a questo punto alessandro di partire con il primo sorteggio ok sì e poi andremo a sorteggiare il girone dove appunto andremo a inserire la squadra perfetto cyberspec andiamo adesso a sorteggiare il girone il girone appunto dove possiamo inserire possiamo dire ai nostri telespettatori da chi è composto il team cyberspunk o lo lasciamo così aleatorio assolutamente dovete venerlo per forza per scoprire lo diciamo subito allora i membri sono lopensky e mister x appunto bene andiamo qua rappresentanza in rappresentanza del team ok il girone perfetto perfetto quindi cyberspec nel girone b e quindi rispettivamente andrà nel girone a invece il team il team tappamilevante che è un posto per perdonami perdonami luca dimmi indovina da chi ha composto questo team quale tappamilevante e secondo me stai di mezzo tu e forse paolo no no uno l'ha indovinato e l'altro invece sono io ok perfetto dopo questo teatrino abbastanza io va bene allora a telecamere spente vi dirò cosa ho pensato di questo nome perfetto andiamo avanti ecco bravi ok perfetto quindi abbiamo possiamo andare un attimo sul psd se ernesto l'ho intanto già compilato così vedremo subito le le squadre inserite e dopo andremo eccole qua quindi tappamilevante girone a e cyberspec e girone b adesso andremo a sorteggiare invece le rimanenti squadre nei rispettivi gironi quindi possiamo tornare alla nostra urna alla nostra ruota anzi e quindi partiremo a sorteggiare il prossimo team perfetto cialda croccante perfetto cialda croccante il team di gallians 34 e melissano 98 e adesso andiamo a sorteggiare il girone dove verrà inserito il team cialda croccante quindi vai pure alessandro perfetto ok girone a no cialda croccante cialda croccante cialda croccante girone a possiamo andare adesso a estrarre il successivo team intanto il psd che si è aggiornato e infatti possiamo vedere cialda croccante appunto nel girone a ciò abbiamo perfetto andiamo avanti prossimo team questo questo deve vendermi una luca però eh io mi aspettavo qualcuno valteriz james ah ai 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 qua non saprei però mi aspettavo un no mickey no però quello me l'aspettavo no mickey no effettivamente lu eh io però da te mi aspettavo una risposta del genere vissero battaglie grazie a loro perfetto possiamo dire che è composto dai fratelli esposito i fratelli esposito ovvero super simo 0014 e luca esposito è ok quindi vediamo il girone vediamo il girone ecco giusto giustamente ed è il girone secondo me ha ecco perfetto ma lei è effettente credit tutto taroccato no vogliamo vogliamo garantire che le palline sono state messe tutte dentro alle ciotole e quindi non ci sarà lo scandalo UEFA assolutamente stasera perfetto andiamo col prossimo team vediamo se andremo a completare il girone A oppure oppure no il prossimo team è e ciova i ciova ciobarcata 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 ciovarcata allora ciobarcata è il team di Marcolino 91 e moddi 19 andiamo a vedere il girone secondo me adesso chiudono il girone A attenzione incredibile no 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 ieri sera in anteprima clippare clippare mi vuole dire che adesso gli altri andano tutti nel giorno e' incredibile per forza pazzesco comunque procediamo lo stesso procediamo lo stesso alla selezione dei team così poi andiamo in ordine quindi vai pure Alessandro ok li presentiamo anche lecce-samp lecce-samp il team di secondo me è samp chissà come è ma lei è lo stregone è tipo no basta ultimi due team andiamo a vedere le ultime due diciamo squadre allora eccolo qua carcere di casa di casa Marcello di casa Marcello perfetto Nicola 46 il team di Nicola 46 e Dax 004 perfetto e adesso rimane l'ultimo team i Cormona Rangers di Maverici 7 e Contra quindi l'ultimo team che possiamo tranquillamente inserire quindi nel girone B mi permetto di fare un appello mi aspettavo il buon Paolo 2553 partecipare il buon Sdem e buoni Rossi e buoni Rossi partecipare però chissà chissà se li ritroveremo nel secondo non si sa non si sa tanti partecipanti delle scorse edizioni che non si sono presentati lo stesso Mettio anche se non erro poi ora non ricordo lo stesso Crive Crive veramente poco garbo nel non presentarsi al torneo di Roque però abbiamo tanti ragazzi nuovi e ora sentiamo un parere anche di Ernesto tanti ragazzi nuovi alcuni che partecipano ai campionati anche di Formula 1 se no abbiamo detto i primi due team a chi appartengono da chi sono composti hai ragione allora non subito a vedere è giusto perché abbiamo piazzati lì ma non l'abbiamo poi presentato anche se uno di questi già dovreste conoscerlo allora abbiamo innanzitutto il Paxo team di Sdem e Tia Prince 97 mentre l'Air Force Gat1 come no dobbiamo per forza conoscerlo una Pulitan e Alberto 2-2-2 vincitori del primo torneo esatto dell'anno scorso c'era anche Delta con loro se non vado errato no quello è il secondo torneo era Bucci il terzo partecipante diciamo che il nome il nome di Aloy riecheggia ancora nelle parti del Polesine quindi ricordiamo la prestazione di Aloy comunque si ecco loro vinsero il secondo torneo di Epifania comunque si anche loro chiaramente hanno diciamo che sono rimasti come dire nelle menti ecco dei partecipanti dello scorso torneo specialmente di uno che disinstallò il gioco tempo zero va bene ho una mezza idea di chi potrebbe essere aspetta ora di venire ingegnere indovini ah lui scrive è indovinato il suo il suo soprannome è la tigre del Polesine quindi non facciamo nomi ma posso dire soprannome benissimo benissimo perfetto a questo punto abbiamo qualche cosa da aggiungere magari Andrea e poi anche Ernesto Luca se vuole Sandro dai io vi aspetto in capire di commento non ho molto aggiungere benissimo bravo Ernesto una cosa da aggiungere non so se mi sentite bene sì sì ok sentiamo una cosa da aggiungere praticamente ricordiamo che il primo turno dove c'è le partite del girone dovevano essere giocate entro le ore 17 del 28 dicembre sì questo poi lo dobbiamo indicare quindi possono mettersi d'accordo come meglio credono all'ora che vogliono l'importante è che entro le 17 cioè il 28 siano state effettuate le quattro partite per ogni team quindi ogni squadra del girone dovrà effettuare quattro partite quindi solamente diciamo una partita ecco con ognuno quindi non c'è andata il ritorno semplicemente dovranno sfidare i quattro team nello stesso girone e poi il giorno dopo avremo appunto la fase d'eliminazione con i quarti poi appunto nel forum comunque scriveremo tutto indicheremo tutti i particolari quindi emanete aggiornati e troverete tutto indicato sì perfetto abbiamo altro Andrea vuoi aggiungere qualcos'altro la tuta finale no 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 assolutamente no vi diamo appuntamento al 27 e soprattutto voglio risentire tre o quattro volte urlato contrato dal buon Fleming in cabina di commento come fu l'anno scorso quindi vi aspettiamo al 27 c'è del c'è del tecnicismo nella lingua di questo telecronista non è così contrastato no contrato molto pratico appuntamenti questa è una citazione colta per gli amanti del calcio ma qua siamo d'altrove va bene va bene allora ragazzi ultima nota sì ultima nota il 27 non ci sarà nessuna live il live iniziano dal 28 e il 29 perfetto così con la fase finale benissimo quindi sintonizzatevi mi raccomando seguiteci poi comunque sul forum verrà tutto indicato scritto verrà riportati entrambi i gironi quindi avrete tutto quello di cui avrete bisogno detto questo io passerei a questo punto e saluti io ringrazio innanzitutto Alessandro per lo streaming per appunto la serata per la Pandora per tutto quello che ha gestito nelle sue mani quindi grazie mille Alessandro grazie a voi buonanotte e alla prossima perfetto grazie a te buone feste ringraziamo Luca grazie a voi vi aspetto in cabina di commento auguri buon Natale buone feste piano a tavola mi raccomando ve lo dico da esperto perché conosco benissimo grazie anche Ernesto che ha curato le grafiche il PSD ha aggiornato ha fatto tante cose trailer quindi multitasking grazie mille Ernesto grazie a te Marco altrettanto ci sentiamo questi giorni a presto a presto benissimo dulcis in fundo lascio la parola ad Andrea grazie anche a te ti lascio direttamente la parola così parli te e chiudi grazie Graziella vorrei dirti dopo questo parli te comunque no va bene grazie buone feste buon Natale che buone feste in realtà ci risentiremo poi appunto ci risentiremo il 27 il 28 il 29 non il 27 non ci risentiremo ma diciamo che il 28 il 29 saremo live quindi ci faremo anche gli auguri di fine anno magari ci dite anche in live o sui social quali sono gli intenti i buoni propositi per il prossimo anno il mio sarà vabbè poi ve lo dirò sui social oppure in separata sede grazie a tutti vincere una gara? no 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 diciamo dire cose poco carine un pochettino di meno insomma via è difficile ma ci proveremo un proposito veramente banale che non verrà rispettato ma guardi banale è lei abbia pazienza però va bene ha detto leghista di no vabbè bene ok va bene va bene grazie a tutti grazie a tutti ragazzi buonanotte ci sentiamo presto ciao a te ciao buonanotte dov'è l'anno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti